oggi vi presento il mitico fantastico laica ecovip 2 camper che ha fatto la storia fa ancora la sua sporca figura come vedete sette posti letto sette posti omologati doppia ruota posteriore io di questi mezzi ne ho avuti tre bellissimo robustissimo ottimo per la montagna camper crisi non ne fanno più l'unico problema l'unico problema che è ancora troppo bello porta biciclette doppio serbatoio lettini a castello grandi meccanizzazione ford 2005 turbodiesel una meccanica potentissima e robustissima mansarda vivibile ariosa spaziosa sono innamorato di questo mezzo veranda adesso vi faccio vedere l'interno gomme appena sostituite tagliando fatto scalino elettrico guardate il pavimento ecco che entriamo nella suite lettini belli grandi guardate con tutte e due la finestra luci di cortesia tendine stufa dove c'è il divanetto si può fare un altro tavolo mi piaceva farlo così oggi e ve l'ho fatto vedere così guardate che sarda guardate tutta tappessata coibentata doppia finestra televisione tutti gli sportelli pensili blocco cucina maxi oblo frigor guardate che bella cucina e poi il disimpegno della doppia di net camper bellissimo veramente guardate che stoff scusate ma veramente sono innamorato doppio armadio frigor bagno vc nautico c'è anche un sistema di vc eccezionale che faceva laica in quei tempi che oggi non fan più perché costerebbe troppo doccia vivibile finestra eccovi due laica lo trovate da camper house di rimini inizia a trovare perché un prezzo veramente veramente eccezionale eccezionale